Avremo un altro scontro diretto con Ravenna in casa domenica e dovremo scendere in campo molto agguerriti, ma qui ogni domenica è una battaglia, non c'è una squadra contro cui si può vincere facile o una contro cui si perde per forza. Qui ogni domenica è tosta e quindi domenica contro Ravenna sarà un'altra partita molto difficile. Alessio Buompasso per Racinus24